Ciao popolo Ilega Nerd, io sono Gabriella e benvenuto a un primissimo appuntamento con Binge Stream, la nostra rubrica dove parleremo di film, serie tv, docu-serie, documentari, insomma tutto quello che passa per le nostre piattaforme on demand e non solo. Dopo il grande successo riscontrato dopo solo 10 giorni dalla messa in onda su Amazon Prime Video, oggi parliamo della serie antologica Them, Loro, creata da Lidl Marvy e che ha come protagonista su una famiglia afroamericana che negli anni 50 si sposta dal sud dell'America al nord in cerca di pace e soprattutto in cerca di una nuova vita lontanissimi dalle leggi razziali di Jim Crow. Ma prima di partire ricordate di iscrivervi al canale YouTube di Lega Nerd, attivare la campanella se volete restare costantemente aggiornati con i nostri video. E adesso è tempo di bingiare! Them, Loro è una serie tv antologica che ha fatto il suo esordio lo scorso 9 aprile su Amazon Prime Video. La prima stagione, Covenant, è composta da 10 episodi, dalla durata variabile dai 32 e 54 minuti. La serie è incentrata sui primi 10 giorni di permanenza della famiglia Emery, composta da Lucky, Harry e le loro due figlie, Ruby Lee e Gracie, nel quartiere residenziale di Los Angeles, West Canton. Colori pastello, prati verdi e sole splendente sono la facciata delle tipiche famiglie bianche degli anni 50, casalinghe imbellettate, uomini alfa e razzisti incalliti. Il comitato di benvenuto infatti degli Emery non è esattamente quello che loro si sarebbero aspettati, è quello che per loro doveva essere un nuovo inizio e in realtà è l'inizio di un terrificante incubo. Senza fare troppi giri di parole, Damn è la perfetta rappresentazione della facciata più estrema, feroce e folle del razzismo ben radicato all'interno della società americana e non solo. Nell'arco di questi 10 episodi assisteremo ad una vera e propria escalation di rabbia e violenza che porterà tutti i personaggi all'orlo del baratro. La serie dista un po' horror drammatico, ma in realtà la suspense è un elemento narrativo che ci serve più che altro per raccontare e rappresentare pulsioni, emozioni e sentimenti come la rabbia, la paura, l'odio, la violenza. Insomma, dare un volto concreto a ciò che generalmente è più intangibile. Ma i veri demoni di Damn non sono certo i mostri nascosti nell'ombra, ma bensì gli esseri umani, come purtroppo e anche nella realtà. Little Marvin, il creatore della serie, non fa sconti a nessuno, anzi ci va giù pesante. Costringe infatti gli spettatori a fare i conti con la realtà. Sì, perché se anche la cornice storica di Damn, l'oro, potrà sembrarci così lontana da noi, i fatti avvenuti quest'estate, la goccia che ha fatto traboccare il vaso portando letteralmente tutta la società afroamericana sull'orlo della guerra civile dopo il terrificante omicidio di George Floyd, ci fa rendere conto che no, quello che racconta loro, è esattamente l'attualità che stiamo vivendo in questi giorni. Quella di Damn è una delle rappresentazioni del razzismo più violente e feroci, che raramente si è visto rappresentare in questo modo in televisione. Un concettato di violenza, di shock fisico ed emotivo e psicologico, forse sull'orlo della pornografia e del dolore. Adotto il linguaggio è nudo e crudo tanto nella scrittura quanto nella messa in scena, quindi non solo per quanto riguarda i dialoghi e anche monologhi dei protagonisti, ma anche per quanto riguarda l'immagine vera e propria. E tutto questo viene fatto con un gusto stilistico veramente molto molto interessante. Infatti da questo punto di vista è impossibile non fare un parallelismo col cinema di Jordan Peele. Peele sicuramente ha il grande merito di aver riportato in auge un cinema horror politico, quindi un cinema che usa il mezzo del genere horror per poter fare denuncia, per poter fare critica esattamente come facevano i grandi maestri negli anni 70 e negli anni 80. Un altro parallelismo interessante è quello che possiamo fare invece con la scrittura di Stephen King. Sì perché King nei suoi romanzi, soprattutto quelli di stampo horrorifico, spesso e volentieri ha rappresentato le paure, la morte, la violenza, l'odio, attraverso una serie di personaggi, di creature ultraterrene. Questo è un escamotage molto efficace che serve proprio per sottolineare ancora di più la crudezza di un'immagine, di una tematica, di un personaggio. Gli episodi hanno un ritmo serrato, infatti la suspense cresce man mano che la situazione e i personaggi si evolvono. E questo ci porta anche a dubitare di quasi tutte le parti coinvolte. Il male è una sottospecie di virus, una maledizione che colpisce tutti quanti, e anzi si tramanda di generazione in generazione, di popolo in popolo, attraverso i decenni. Menzione d'onore va in particolar modo a due episodi, il quinto episodio e il non episodio. Il quinto episodio preparatevi perché non riuscirete più a dormire la notte. Per quanto riguarda invece il non episodio c'è un drastico cambio di regia e di stile, che strizza un pochino l'occhio invece a Mike Flanagan, che aveva fatto la stessa identica cosa con la serie tv The Haunting, tanto in Hill House quanto in Bly Manor. La serie inoltre lavora tantissimo anche sui contrasti, sia per quanto riguarda i colori che per quanto riguarda i suoni. Spesso e volentieri per poterci introdurre un ambiente anomalo, quindi l'anomalia all'interno di una situazione più o meno normale, la musica va in distorsione, i personaggi hanno questi sorrisi fintissimi, tiratissimi, particolarmente inquietanti. E poi alla fine esattamente l'obiettivo di Dem, quello di angosciare, disturbare, turbare lo spettatore, ma anche a portarlo a riflettere, perché appunto quello che sta guardando non è mera finzione, non è qualcosa lontano da lui, ma bensì un qualcosa che può respirare ogni giorno. E a volte dovremmo cercare di essere anche molto più empatici, dovremmo cercare di metterci nei panni, nella pelle di altre persone, che tutto questo modo di odio e di persecuzioni lo provano da sempre, letteralmente. Cilegina sulla torta sono assolutamente gli attori, tutti gli attori sono in completo stato di grazia, passatemi il termine, sono incredibilmente espressivi, tanto nelle intenzioni, quanto nel tono, ma soprattutto per quanto riguarda le espressioni, questi volti che raccontano tutto, pur non dicendo praticamente nulla. Deborah Yorinde, Ashley Thomas, Alison Peel, sono veramente straordinari, e viviamo costantemente con loro, tanto il disagio quanto la rabbia. Ma anche tutta un'altra serie di emozioni. Stessa cosa vale anche per le giovanissime Shadi, Joseph Wright e Melody Hard. Brave, brave, brave. Insomma, in conclusione di questa prima recensione, quello che vi posso dire è che Them, loro, è assolutamente una serie che non potete perdere. Sicuramente ne sentiremo tantissimo parlare durante la stagione dei premi, ed è sicuramente uno dei prodotti che meglio rappresenta una facciata, che spesso e volentieri tendiamo a dimenticare della realtà. Lo trovate su Amazon Prime Video, io vi ringrazio per essere stati con me, spero che questo video vi sia piaciuto, ovviamente vi aspetto nei commenti per qualsiasi tipo di feedback, ma soprattutto vi è piaciuta la serie, la vedrete, se ancora non l'avete vista, insomma, fatemelo sapere. E non dimenticatevi di continuare a seguire Leganerd su YouTube, su Twitch e ovviamente sul sito leganerd.com. Io sono Gabriella, ci vediamo un prossimo video. Ciao!